Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove c'è un chilometro di coda per lavori al chilometro 17 tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Si segnala la presenza di personale sulla strada tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Guidare con prudenza per la pioggia in A1 tra Chiusi Chianciano e Ceprano. In A12 controllo della velocità attivo tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Si segnala una perdita di carico tra la barriera di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Per le statali sulla Aurelia carreggiata chiusa per lavori tra Venturina e Follonica Nord in direzione Roma. Muoversi in Toscana Info in servizio e in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!